amici sportivi un caro saluto da andrea anselmi e benvenuti alla seconda puntata di white red news il rotocalco sportivo interamente dedicato all'fc su tirol sul nostro portale web ma anche sui social network ufficiali dell'fc su tirol siamo a maso ronco nel centro sportivo dell'fc su tirol cuore pulsante dell'attività del club bianco rosso siamo in compagnia di due ospiti che vado immediatamente a presentare la mia sinistra mirko miori giovane partire dell'fc su tiro ciao mirko benvenuto a tutti alla mia destra invece pier giuseppe maritato attaccante e top scorer attualmente della formazione bianco rossa e allora inizio proprio da pier giuseppe maritato siamo nella vigilia del match contro il ferralpi salò match casalingo in programma sabato alle ore 15 allo stadio druso ma facciamo un passo indietro quanto è stata importante la vittoria contro il padova per la classifica ma direi anche per il morale e la vostra autostima beh io penso soprattutto per il morale visto che arrivavamo da due sconfitte non magari meritatissime livello di gioco comunque di palle gol costruite e ci mancava qualcosa ci mancava una vittoria che ci desse ancora di più quell'autostima che che forse ci mancata in quelle due sconfitte partita speciale perché vincere a lugano di padova insomma stadio che trasuda storia sportiva importante non è da tutti i giorni no no assolutamente abbiamo incontrato una buona squadra si è stati bravissimi a metterli sotto già già dall'inizio e mettere un po in discesa la partita già dopo un quarto d'ora con il primo gol poi si è stati bravi a mantenere lì e non rischiare nulla per il resto della partita poi oltretutto vincere in uno stadio come quello dell'euganeo e comunque contro una corazzata e blasonata come il padova non è da poco sei l'uomo il calciatore copertina della settimana e realizzata una doppietta quella vincente insomma l'euganeo di padova secondo gol mi viene da dire la treseghè visto che anzi primo gol alla treseghè quello di testa visto che so che è insomma un calciatore tuo di riferimento il tuo idolo è stato sì no no è comunque un idolo perché ancora oggi non riesco a trovare nessun altro forse l'unico Lewandowski che si può avvicinare ma è anche un po' differente come come tipo di gioco sì no no contentissimo per i due gol ma soprattutto contentissimo per la vittoria poi se somigliava a Davide ancora meglio con Mirko Migori invece altro aspetto importante che sottolineiamo il fatto che il Sutirol non abbia subito gol che rafforza anche in questo caso la fiducia nei vostri mezzi visto che nelle precedenti partite qualche gol di troppo era stato subito sì siamo siamo contenti di questo anche perché in tutte le partite la prima con l'Albino Leff abbiamo subito gol e questo da un segno importante del lavoro che stiamo facendo giorno dopo giorno in settimana sulla fase sia difensiva che offensiva e si nota anche il molto possesso di gioco che facciamo che momento è per te immagino bello insomma partire titolare del Sutirol hai approfittato al meglio dell'infortunio corso a Coser per difendere la porta bianco rossa con la maglia numero uno diciamo che sicuramente un bel momento sto cercando di giocarmi tutte le mie carte e fin quando avrò la possibilità darò tutto quanto ti ha aiutato il fatto di avere già rotto il ghiaccio per così dire con il campionato di Lega Pro una scorsa stagione collezionando qualche presenza che immagino ti abbia permesso anche di prendere le misure alla categoria agli avversari ma anche di trovare la giusta sintonia con i tuoi compagni di squadra no sicuramente mi ha aiutato molto anche il fatto di tornare per il secondo anno di fila qua dove conoscevo già l'ambiente i compagni e il mister e mi ha dato quella spinta in più sia il voler venire qua sia il poter far bene e il crescere maggiormente. Con Pier Giuseppe Maritato facciamo un ulteriore passo in dito perché raccontiamo la tua storia calcistica che è una storia calcistica bella e importante anche se vogliamo particolare perché è un ragazzino di 12 anni dalla Natia a Cetraro cioè il paesino della Calabria in provincia di Cosenza nel quale sei nato e cresciuto è partito da lì è arrivato a Torino perché gli si è aperto un sogno dinanzi agli occhi beh sì tanto indietro non un poco sono partito così da 12 anni sono stato scelto dopo un provino dalla Juve penso più o meno dopo un mesetto o giù di lì è arrivata l'isperata forse anche telefonata da parte della Juve che mi chiedeva proprio di andare su e purtroppo lì fin quando non compi 13 anni non possono neanche metterti in convitto e quindi i miei sono dovuti venire su e star su con me un anno finché comunque non ho compiuto i famosi 13 anni per poi passare direttamente al convitto della Juve. Che esperienza è stata quella nella scuola diciamo così calcio e non solo forse della Juventus e cinque anni importanti quali ricordi più belli le vittorie che ricordi con maggior soddisfazione? Beh a livello di vittorie penso che la vittoria dello squadetto con le lievi nazionali che poi era l'unica l'unica volta che cioè non l'avevano ancora mai vinto è stata sicuramente la maggiore però la fortuna ecco di riuscire ad allenarsi con gente del calibro del Piero, Treseguet, Nedved, Ibrahimovic, Turam comunque quella squadra lì è favolosa. Aneddoto che ho ricavato da una delle tantissime interviste che ti hanno fatto questa settimana a un certo punto del Piero ti passa il pallone tu fai gol e lui ti dice bravo bomber. Sì beh per complimentarsi infatti come già detto negli scorsi giorni è una cosa che mi porterò dentro perché comunque fa estremamente piacere poi è quella roba che comunque poi puoi raccontare ai nipoti no? Come si dice? Decisamente. Dalla Juventus poi alla Fiorentina altro traguardo importante insomma altra società prestigiosa e lì hai rischiato quasi di debuttare in Serie A? Beh sì lì ho fatto gli ultimi due mesi aggregato in prima squadra non c'è stata la fortuna di assordire però comunque fare due mesi e stare dietro comunque ai grandi visto comunque allora solo un ragazzino della primavera era qualcosa di emozionante comunque che ti inorgoglisce un po' dentro sai che ce ne sono tanti che possono scegliere nella tua squadra e il fatto che abbiano scelto me mi inorgogliva. C'era un certo Prandelli anche un po' che... E soprattutto sì c'era il mister Prandelli che poi mi ha visto la strada che ha fatto. Tornando alla Juventus i tuoi compagni di squadra li ricordiamo magari qualcuno? Sì beh no ho avuto la fortuna di far la primavera sotto età con gli 87 quindi con Giovinco, con Magnero, con Lanzafame e comunque anche con Pasquato che tra gli 89 è l'unico comunque che è riuscito ad arrivare fino alla Serie A e ho avuto questa fortuna ecco di incontrare gente soprattutto del calibro di Giovinco e ogni tanto veniva giù anche Marchisio visto che era aggregato alla prima squadra lui e ci dava più di qualche consiglio. Il settore giovanile importante nel quale è cresciuto Mirko Miori è quello dell'Atalanta qui che ricordi abbiamo? Sicuramente dei ben ricordi, sono stati sette anni indimenticabili fatti sicuramente da tanti sacrifici ma anche tante soddisfazioni la soddisfazione maggiore è stata vincere lo Scudetto con la Beretti poi hai fatto anche il torneo di Viareggio e poi abbiamo fatto anche il torneo di Viareggio dove siamo usciti ai quarti purtroppo avendo dominato fino a lì sicuramente è stata una grandissima esperienza. Qui al Sutiro come preparatore dei portieri hai trovato un ex professionista va a dire Reinold Asso a Rasser, quanto è importante per te nella tua crescita visto che adesso ti confronti col calcio dei grandi? Sicuramente mi ha aiutato e mi sta aiutando moltissimo sia sul piano mentale che quello fisico e tecnico soprattutto il giocare con i piedi, la personalità e la tranquillità che mi dà ogni giorno. La tua scelta cioè quella di rimanere al Sutiro se vogliamo è stata anche particolare non usuale perché un portiere come te magari poteva scegliere una piazza fra virgolette più comoda con un avversario, compagno di squadra se mi passi l'espressione un po' meno ingombrante visto che insomma Achille Cosen è un portiere importante per questa categoria invece hai voluto rimanere e rimetterti in gioco qui al Sutiro proprio. Sì, ho voluto rimanere perché c'erano tutti i mezzi per poter far bene ho la fortuna di essere qua con Achille Cosen e imparare moltissime cose da lui e sicuramente è stato molto incisivo anche il fatto di ritrovare Mister Asso che sapevo che mi potesse aiutare molto. Torno da Pier Giuseppe Maritato dicevo in apertura di trasmissione top score del Sutirol con tre gol è arrivato il momento in questa stagione magari di far parlare di sé soprattutto per i gol perché tu sei il prototipo del centravanti moderno apprezzato per quanto bene faccia giocare la squadra per quanto si metta al servizio della squadra però forse una stagione in doppia cifra sarebbe un trampolino di lancio per la tua carriera? Sì, sarebbe anche ora perché alla fine l'ho solo spirata l'anno di Vicenza perché per un infortunio mi ha bloccato le ultime quattro giornate quindi non ci sono arrivato e sarebbe come detto anche ora di iniziare a far parlare i numeri più che magari del bel gioco che posso dare una mano a far giocare bene la squadra. Sono passate cinque partite di campionato ci apprestiamo a disputare la sesta diciamo così hai già capito se questo Sutirol vale quello del tuo primo Sutirol stagione 2012-2013 poi è arrivato sino in semifinale play-off? Beh diciamo che c'è qualcosa che è simile un po' a quel Sutirol comunque siamo partiti anche mi ricordo quell'anno lì un po' in sordina magari non facendo benissimo all'inizio però avendo tanta continuità durante la stagione. Quindi secondo me come detto comunque un po' da tutti nelle scorse settimane c'è tanta esperienza rispetto agli ultimi anni del Sutirol che in un campionato così duro come la Lega Pro dà una grossa mano e oltretutto a livello qualitativo è una squadra forse anche la migliore secondo me che ha avuto il Sutirol negli ultimi anni. Domani sabato il match casalingo contro il Feral Pissalò altra squadra che si presenta al Druso con una classifica importante sono secondi classifica in serie utile da tre partite con due vittorie e un pareggio e soprattutto hanno sempre vinto in trasferta. Altra partita dura? Un po' come saranno tutte le altre da domani in avanti. Loro sono un po' come noi, non hanno grande pubblico comunque sono lì sul lago di Salò, sono tranquilli, sono abbastanza sereni come ambiente e questo comunque per progetti come il nostro può essere una grossa mano. e noi siamo lì, vediamo un po' di tenerli a bada. Ok, prima di chiudere vi ricordo l'appuntamento di sabato alle ore 15 al Druso con il match della prima squadra contro il Feral Pissalò in contemporanea per chi non potesse venire al Druso e volesse vedere le partite del settore giovanile e del Sutiro alle ore 15 qui a Masoronco c'è la formazione berrettica a fronte al Lumezzane domenica invece mattina alle ore 11 l'appuntamento è con i giovanissimi nazionali che sono reduci da tre vittorie di fila che affronteranno il Padova. Ringrazio i miei ospiti Mirko Miori, grazie in bocca al lupo. Grazie a te. Per Giuseppe, grazie in bocca al lupo anche a te. Ok, è davvero tutto per questa puntata di White Red News. L'appuntamento è come sempre per la prossima settimana. Ciao. Grazie a te.